Può una fotocamera relativamente vecchia come Canon EOS 5D Mark IV tenere il passo con le più recenti mirrorless? Nel corso di questo video vado a darvi la mia personale risposta e oggi festeggiamo un evento importantissimo perché il service di Canon mi ha appena restituito la fotocamera che avevo mandato in assistenza. Se qualcuno di voi segue il mio canale e per chi non fosse ancora iscritto il mio consiglio è di iscriversi immediatamente perché altrimenti dopo ve lo dimenticate. Chi ha già seguito i contenuti precedenti saprà che ho avuto un problema alla mia Canon 5D. Infatti la main dial, la ghiela principale, si è danneggiata. La colpa non è stata mia, praticamente ci troviamo di fronte a un pezzo difettato in origine. Infatti mi hanno detto in assistenza che non c'è stato impatto, non c'è stato nessun tipo di danneggiamento fisico da parte né mia né di nessun altro, ma siamo semplicemente in presenza di un pezzo che nasceva già con un problema di fabbricazione, per cui il pezzo è stato sostituito e vi posso quindi portare la mia esperienza sul service di Canon e mandremo a parlarne nel corso del video che vi consiglio di seguire fino alla fine. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia, ho diverse fotocamere in mio possesso e delle altre finisce che le noleggio perché mi servono per lavori dove magari la mia strumentazione non arriva, quindi mi passano per le mani un sacco di fotocamere. Oggi vado a fare un raffronto tra la mia esperienza con Canon EOS 5D Mark IV, quindi una delle ultime fotocamere reflex rilasciate da casa Canon, con le più moderne cugine mirrorless. In particolare dopo la mia esperienza in studio vi lascio un link in card, mi è capitato di provare sia la R5 sia per foto che per video, sia la R6 anche questa sia per foto che per video. Al termine di questa esperienza vi posso dire secondo me qual è la fotocamera definitiva tra tutte queste e la risposta potrà sorprendere molti. Comincio col dirvi che il service di Canon è stato assolutamente impeccabile. Sottolineo che io ho preferito fare a meno del corriere in quanto non mi trovo particolarmente distante dal punto di raccolta e quindi ho portato personalmente la mia fotocamera in service dove è stata presa in carico, mi hanno fatto un preventivo sulla riparazione che è stata portata a termine in un arco di tempo a mio parere brevissimo perché sono passati meno di dieci giorni lavorativi. Quindi dal giorno in cui io gliel'ho portata al giorno in cui sono andato a riprenderla sono passati qualcosa come sette giorni totali. Un tempo a mio parere veramente record e questa è un'ennesima cosa che mi piace molto di Canon. Nel momento in cui hai un problema con la merce che sia in garanzia o che non sia in garanzia io non ero in garanzia quindi ho pagato la riparazione. Ho pagato 120 euro per la sostituzione della ghiera principale. A mio parere non è neanche così tanto. Ma andiamo a vedere perché questa fotocamera mi piace così tanto e perché ho assolutamente desiderato farla riparare. Stiamo parlando di un corpo macchina dalla costruzione secondo me assolutamente splendida. Un corpo macchina che riempie a meraviglia la mano più esigente. Quindi se da un lato è vero che le mirrorless sono state una liberalizzazione verso il basso quindi hanno permesso a persone che prima facevano fatica a tenere in mano strumentazione pesante di andare in giro con una fotocamera di tutto rispetto e fare delle foto bellissime dall'altro lato è vero anche che c'è chi amava lavorare in maniera tradizionale. Io sono uno di quelli e quindi avere una fotocamera grossa che mi riempie la mano a me personalmente dà una sensazione assolutamente impagabile sia che io stia lavorando sia che io stia scattando per mero piacere. Il body di Canon EOS 5D Mark 4 è tropicalizzato alla perfezione quindi non ci si deve preoccupare degli elementi atmosferici. Questo non significa che possiamo usarla immersa nella vasca da bagno ovviamente però significa che se stiamo scattando sotto la neve o sotto una pioggia di lieve entità possiamo stare assolutamente tranquilli perché la nostra fotocamera non ne risentirà minimamente. Il dorso presenta una serie di bottoni personalizzabili di tutto rispetto perché abbiamo qualcosa come credo 10-12 bottoni a cui possiamo assegnare delle funzioni a nostro piacimento. Quindi per esempio io ho assegnato al bottone posteriore il cycle dei punti di messa a fuoco, del metodo di selezione di messa a fuoco così posso cambiare velocemente la selezione dei punti di messa a fuoco a seconda di quello che devo fare. È una cosa che mi serve poco perché su tante altre macchine questa cosa non ce l'ho e vivo benissimo lo stesso però quando ce l'ho è una sicurezza in più ed è un bottone in più che devo memorizzare ed è un corpo macchina difficile da usare quindi magari non adatto ai principianti però nelle mani di un esperto avere tutti quei bottoni può assolutamente fare la differenza soprattutto per i generi più particolari. Un bellissimo sensore che supera i 30 megapixel ci regala delle fotografie ad alta risoluzione con cui possiamo scattare nella massima tranquillità perché potremo sia fare dei crop importanti una volta arrivati a casa sia stampare le nostre fotografie per esempio su una doppia pagina centrale di un magazine senza temere in nessun modo una caduta qualitativa importante. Il file RAW di questa fotocamera è qualcosa di incredibile nel senso che abbiamo un recupero di alte luci e ombre veramente eccezionale non paragonabile a Canon EOS R5 per esempio quindi la macchina che io considero essere la macchina di punta del sistema Canon in questo momento a me piace anche più di R3 preferisco R5 di gran lunga quindi quella che io considero la macchina di punta ovviamente è meglio è una macchina che è venuta dopo e contiene un comparto tecnologico molto più sviluppato quindi da questo punto di vista è anche normale che performi meglio e che abbia un file più bello però la 5D viene subito dopo secondo me infatti ha un file che sta alla pari di Canon EOS R infatti queste due macchine condividono pressoché lo stesso sensore a mio parere la 5D ha un file più bello anche di R6 non ho avuto modo di provare R6 Mark 2 per il momento però sono abbastanza convinto che i 24 megapixel di R6 non possano competere con i 30 della 5D e sono anche abbastanza convinto visti i problemi che ho riscontrato su R6 che anche R6 Mark 2 potrebbe esserne affetta. Di cosa sto parlando? Nello specifico ho realizzato uno shooting dove ho affiancato R6 a EOS R quello che ho riscontrato è che R6 pur essendo una macchina molto bella e ho fatto sia foto che video con entrambe mi sono trovato molto bene quindi sono macchine che funzionano e vanno benissimo. Quello però che ho riscontrato è su R6 un file che mi ha dato un po' di pensieri intanto per questi 20 megapixel. Ora 20 megapixel secondo me sono un po' pochini su un corpo professionale di questo tipo per esempio R7 che sto usando in questo momento ne ha di più ne ha praticamente 30 se ricordo bene. Ora io non capisco perché R6 che si pone comunque come un corpo professionale ne abbia solo 20. In certi casi può fare molto comodo, può fare comodo per tutta una serie di motivi ma non la resistenza ad alti ISO perché Canon EOS R5 che ha 40 e passa megapixel ha una tenuta di alti ISO migliore di R6 a mio parere quindi il motivo non è quello. Inoltre su R6 io devo dire che ho riscontrato sugli ingrandimenti un file non proprio bellissimo, non è perfetto, le immagini non mi hanno fatto esclamare meraviglia cosa che invece succede sulla 5D. Per questo motivo secondo me la 5D si colloca esattamente a metà tra R6 e R5, stiamo parlando esclusivamente della qualità del file ovviamente. È evidente che le mirrorless hanno delle potenzialità di connessione, di messa a fuoco, di rapidità molto superiori alla vecchia 5D. Però stiamo parlando solamente della qualità d'immagine e per la maggior parte dei fotografi la qualità d'immagine è tutto quello che conta perché se da un lato è vero che esistono fotografi estremi che fanno cose molto difficili come per esempio avifauna o per esempio sport estremi, dall'altra parte è vero che secondo me sono molti di più quelli che vogliono solamente una macchina fotografica con cui poter catturare belle immagini di una scena sostanzialmente statica. Ecco che la qualità d'immagine è assolutamente fondamentale e a mio parere 5D ha una qualità d'immagine superiore a R6, secondo me è superiore anche a R6 Mark II. Ovviamente R5 è superiore però stiamo parlando di un corpo macchina che costa praticamente il doppio. Ed ecco perché secondo me la 5D Mark IV rimane una fotocamera di tutto rispetto che dovrebbe trovare posto sugli scaffali e negli zaini di tantissimi fotografi in tutto il mondo. Personalmente ho fatto riparare la mia perché spero di portarmi dietro questa fotocamera ancora per molto molto tempo. A questo punto amici vi chiedo che cosa ne pensate di questa fotocamera? L'avete posseduta? Avete pensato di acquistarla? Siete passati direttamente a mirrorless? Raccontatemi se c'è qualcosa dell'universo reflex che proprio non vi va giù e avete sentito il bisogno di passare al livello tecnologico superiore oppure se come me per la maggior parte delle cose che fate ve la cavate ancora benissimo con il vecchio sistema che vi dava praticamente tutto quello di cui avevate bisogno. Io personalmente uso mirrorless quasi esclusivamente per fare video. L'unica cosa che faccio utilizzo Canon EOS R per fare fotografie di interni e di paesaggio perché uso il 1435. Mi piace avere quell'angolo di campo un pochettino più ampio e quindi ho fatto un pochettino questo switch. D'altronde EOS R condivide il sensore della 5D Mark IV quindi praticamente sto usando sempre la stessa macchina. Non lesinate con i pollici perché se questo video raggiunge i mille like potrei fare una comparazione tra la 5D Mark IV e Canon EOS R però a questo punto vi chiedo anche nei commenti se questa comparazione vi può interessare. Non mi dilungo oltre io e il Canon Cinematic Universe vi diamo appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.